Nella puntata precedente Vai scappiamo adesso scappiamo adesso scappiamo adesso scappiamo 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 Dammi lascia o lascia Ma quanti ce ne sono quanti Si è acceso 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 Si No Rattor va a fuoco No no Sperando che ci sia che cazzo sta qua a terra C'è uno di loro morto Riusciranno i nostri eroi a sopravvivere a questa foresta infernale Per scoprirlo non vi resta che guardare E lasciare un mi piace ovviamente Ok dobbiamo rifarci le foglie Euh no Oh 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 Lì giù Lì giù Sono lì giù Sono laggiù Dove? Verso quel masso E sento delle mosche Non lo vedo Aspetta un traghetto Se ti avvicini Ho ammazzato io Ok ti stavo per dare un colpo in faccia Ecco benissimo Se ti avvicini lo vedi Ma qua c'è anche un altro morto Ma posso prenderne i pezzi Perché non mi fa prendere i pezzi Sto tizio Non mi fa prendere Uffa Non avviciniamoci troppo al masso Altrimenti ci vedono Ma qua c'è un altro morto anche Ma dove sei? Sì per fortuna Ok allora Le foglie si prendono spaccando sti robbi Quindi Ok gator lives perfetto No Oddio ci stavo per colpire E anche io Ok allora ci sono quattro Quattro Prendi anche i bastoncini Cinque Ok ho quattro o cinque foglie Ok io sto con i bastoncini Vai prendi Se ho sbaglio possono tipo sette Il massimo che puoi prendere sti robbi qua Vabbè Allora dobbiamo farci un fuoco Qua Tipo Vai andiamo Lo facciamo vicino al mare? Sì facciamo vicino al campeggio forse è meglio Ecco sì andiamo Allora quindi Ma tutte quelle teste di morto che stanno là Attento attento che di là che stanno i Dove andiamo? Tipo qua alla spiaggia? Sì Perfetto dai Vicino al campeggio qua dove sta Stai tende Perfetto Questo mi pare perfetto Ok Ok dobbiamo avere tutto Book O O B Ok Campfire Si fezzano te? Sì sto facendo io Ok vai Ma standing the fire Ok fatto come faccio a Ok adesso con la E tieni la premuta Ok Ok Manca qualcosa penso No ok Perfetto Ok Però devo prima equipaggiare il Il lighter Ehm si Non me lo fa Non me lo fa accendere Non me lo fa accendere Non me lo fa accendere Eh forse non hai foglie aspetta Provo io Perché non me lo fa accendere? What? Gatterlevis 5 su 5 Eh anche io Aspetta ma vicino Madonna Bisogna messi il fuoco in faccia Ok E' giorno E' giorno Ok io metto a cucinare la roba Eh anche io Aspetta no Cuoci prima tu Ok C Ehm Anche perché mi stava finendo la fame E C Allora vediamo Io nell'inventario tipo Aspetta prima metto questo giù Nell'inventario Ehm Dei circuit board E lizard skin Con la lizard skin cosa si può fare? Beh Usa la giù e mezza l'armatura tipo Ok perfetto Oddio ho il braccio armato Guarda Vediamo E poi ho anche un weak spear Can be used As a weapon Or catch fish Ah possiamo tipo Catturare i pesci con questo Dove sei? Adesso qua Oddio che spavento Ti hai fatto spaventare Ma come metto io di nuovo quel bastione là? Ah ecco L'alba Come faccio a pescare con sta roba? Ehm no non è qua che si pesca nel mare E nei E nei laghetti tipo Ma peccato Volevo provare a pescare qualcosa con sta cosa fighissima Intanto adesso si vede più di prima Eh Se schiacci i culi Questo è poco ma sicuro Ho la culi Apre una radio Sì avevo visto anch'io Ma non so cosa serve Nemmeno io sai Ciao Raptor Sono Charlie Oddio 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 Charlie Charlie hai attirato i tizi Charlie Non ho fatto niente Non ho fatto niente lo giuro Charlie Charlie colpa tua Non ho fatto niente lo giuro Oddio No 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 Basta Non dovevi parlare con quella radio No no mi dispiace Io stavo chiamando te Non dovevi Ah Ora te ne scappi pure Non ci mango io qua sotto ovviamente Io sto qua su però Sto sicuro Eh Io no invece Sto giù con questi tizi No Sono cinque Cinque contro uno non vale Di nuovo quella Mi sa che il Il fuoco gli fa paura Ehm Si stanno allontanando Non avvicinarti Dove Cazzo sta il fuoco Dove ho messo il fuoco Sta lì Oh Ti ha dato Sta lì Ok se ne stanno andando Se ne stanno andando Ah Fottuti in merda E vai Questi cosi si possono distruggere Che cosa? No Spero che si potesse Tipo distruggere sta roba Fanculo Fanculo Vedi Charlie non usare mai più Ci sono dei dollari per terra Fottuta radio Non l'ho fatto apposta Lo giuro Non lo sapevo Oddio Ci sono delle ossa qui mi sa Dove? Qui per terra Oh No Oh che cazzo è sta roba? Sono andati via Sì stanno andando Però sono rimasti tipo a fissarci credo Perché li fissano? Ti amano raptor Oddio santo Tutti mi amano qua Ma che è? Ok Va bene Allora signorina Lei Io e te Ci vediamo Un cervo Uccidiamoli Oh ho preso fuoco Ecco Come faccio a spegnermi? Come faccio a spegnermi? Acqua Acqua Vai nell'acqua Charlie vai nell'acqua Sto andando Sto andando Oddio Ok 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 Mi sono spenta Mi sono spenta No tizio 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 No no Non voglio il vostro cervo Non lo voglio Lo giuro Bambi lo lascio stare Sono Mi sa che ho bruciato il cibo Lo sai Ok lo sapevo io No Come fanno Un fottuto cervo Al quale si è andato Ma ammazza Gli trova la testa Ma Fagli vedere il fuoco Fagli vedere il fuoco Eh sto qua Sto qua Io mi metto vicino al fuoco Sto qua Sto qua Sto qua Venite qua Vieni sbastardo Vieni No ho preso fuoco No Scappa Scappa Sono un coglione Dammi la medicina Dammi la medicina Dammi Charlie mantieni Sì il fuoco gli fa paura Il fuoco gli fa paura Ok il fuoco gli fa paura Io scherzavo Scherzavo No 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 Vattene Via Andate No 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 C'ho il fuoco io C'ho il cazzo di fuoco No 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 Ho il fuoco Ho il fuoco No Signorino Ho il fuoco Porca Troia Ho il cazzo di fuoco Può arrivare Ma perché ce n'è solo uno Dove sono tutti gli altri Oh Ha preso fuoco Ma se lo butto sul fuoco Vieni qua Un tempo si bruciavano Sì tizzi Vieni qua Vieni sul fuoco Muori male Vieni qua Non ti caga Merda Ah si ha preso fuoco Muori muori Si si vai Si sta facendo male da solo Vai uccidi Si ce l'ho fatta Muori muori Muore E ne prendiamo i pezzi Oh perfetto Di questo possiamo prendermi i pezzi Ok Finalmente Oddio Mi hai fatto tipo male Però vabbè A te Si Ma io ho preso Ho preso Sta finendo il fuoco Mi sa Gambe Braccia Ho preso un cazzo di servizio Io ho due gambe Eh lo so che hai due gambe Cianni Quante ne voleva vire Scusa È un pochino di più Ci serve cibo Ci serve cibo Il cibo Coniglietto Coniglietto Fermo Coniglietto Ok Ciao draghetto di comodino Comodino Oddio sono tornati No Sono tornati e sono molti di più Da volte sono cazzi Sono molti molti di più Come si fa a prendere il comodo da qua? Devi premere mentre cuoce Aia No hai preso di nuovo fuoco Mi sa No No spegniti Rotola Rotola per terra Io mi Io mi Io mi barrico Su Su sta roba Mi sa che Vai vai Mi stai facendo bruciare Il mio comodo Premi è mentre Cioè devi premere C Per posizionarlo Che ce l'hai ancora in mano Mi sa Aspetta forse No Attento dietro di te Dietro di te No 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 Ne capita un cazzo Attento 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 Fammi recuperare il comodo E poi ne riparliamo Perché non lo fa recuperare Ma non c'è No si è bruciato L'ho mangiato Ok l'hai mangiato Perfetto L'ho mangiato Vattene Cazzo C'è preso Merda Donna Dobbiamo farcela Dobbiamo farcela Siamo arrivati fin qua Ecco Perché ci fai Cercando di difenderti No Là ce ne sono Cosa cazzo è stato Mi hai colpito Mio dio Non t'ho colpito io L'ho fatta colpire te Oddio quanti sono No è impossibile No 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 Ne 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 Allora Devo andare a una tattica Qual è il fuoco Dove sta il fuoco Qui Eccolo Allora Li facciamo bruciare No 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 Sì sì L'ho fatto bruciare un altro Vai 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 Vedete tutti nel fuoco Pezzi di merda Vai 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 Aia Sì 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 Un altro l'ho fatto bruciare No 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 Porco schifo E' uno sballo Mi piace Ecco Ok Ok devo farcela Devo farcela Devo farcela Sto correndo verso di te Ok correndo una parola grossa Sto venendo verso di te Aia no No mi manca pochissima vita Però è rimasto l'ultimo Sai No Vai vai No no Mi ammazza Mi ammazza Mi ammazza Mi ammazza male Prendite fuoco male Vieni qua Vieni nel fuoco Pezzi di merda Dovete morire Vieni nel fuoco Io sto arrivando Vieni nel fuoco Ti ho detto Non hanno paura del fuoco Inutile Cazzo che ci fa questa dietro Quanto si brutta Vuole stuprarti Attento Ciao Vi ce l'ho fatta Li hai uccisi tutti Quasi No vabbè Sei un grande Chi manca Ehm Solamente Qualtizio Sta scappando E non ci caga Ok 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 però sta tornando la notte Il nostro fuoco scarseggia Ah Siamo fatta Ok perfetto Ci sono dei denti qua Riusciamo a costruirci il totem Ehm Forse Allora vediamo B Allora Era 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 Dove cacchio stava Il crafting del totem Ok io sto mettendo Dei conigli a cucinare Non troppo il crafting del totem Aspetta Custom building forse Custom building forse Ah eccole qua Cosa ci manca per craftare Questo Questo Ok che serve Tre pitre Per cazzo le piglio le pitre io E mettiamo anche questo Non riesco a mangiare questo Ecco bug everywhere Ci mancano tre braccia Tre tante Tutto ci manca Ok Mangia sta merda No 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 ho preso fuoco Ecco Ecco Cazzo le prendiamo nelle pitre mo Io ce l'ho una pietra Eh ce ne servono tipo tre Te la posso lanciare qua se vuoi No vabbè mettia qua Mettia qua 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 Ah posso parlo anch'io Dovresti Qua sotto la roba Ok allora aspetta devo Ma i pezzi degli altri tipi che cazzo sta no questa è già morta oh si pezzi datemi tutti ok ho perso sto trovando un sacco di cibo per fare questo ci vuole tre pietre per fare questo ci vuole un macello di roba tipo un altro bastoncino altre tre teste altre tre braccia e altre tre pietre qui c'è una testa che rotola l'ho presa allora gamba ma io le gambe ce l'ho già ma le gambe sono l'unica cosa che non serve questa roba ok io ho messo altra roba ok mancano le pietre cos'è questo mini totem fatto io manca manco tre pietre abbiamo un totem complito ok allora andiamo a cercare delle pietre allora ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto abbiamo fatto tantissime cose siamo riusciti a farci una base che magari ci permetterà di non morire per un altro po di episodi è stato meglio vi piace se questa serie vi può piacere mi raccomando iscrivetevi al canale di raptor che trovate nella descrizione raptor vuoi fare un saluto al nostro pubblico ragazzi saluto tutto il mio pubblico amato lo faccio solo per voi stupro le donne nude soltanto perché piace a voi ecco in realtà sono loro che stupro a me ma va bene no 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 vai fai tu fai tu fai tu noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ragazzi bella a tutti ragazzi